solo ed esclusivamente le concorrenti e gli addetti ai lavori si può seguire penso ma dopo la macchina a fine gara ovviamente mi raccomando solo le concorrenti e gli addetti ai lavori sul tracciato per la vostra sicurezza, la sicurezza delle ragazze assolutamente non vogliamo vedere ciclisti seguire la gara a meno che non sia dopo la macchina di fine gara guarda che lì ci deve essere un barco, facciamo entrare ragazzi lì ci deve essere un barco per entrare, aprite un attimo dovrebbe esserci il passaggio c'è il passaggio vicino alla struttura allora ripeto ancora, solo le concorrenti e gli addetti ai lavori i responsabili e gli organizzatori non è possibile seguire la gara insieme alle ragazze la prima partenza con le esordienti 32 chilometri 32 chilometri da effettuare questi tre cili più 1 con l'interno della montagna con una bella salita ciao vinto il pubblico avvicinarsi dietro le transsede mi raccomando avete le zone pubblico per il tifo 8 minuti all'avvia 8 minuti alla partenza della prima partenza della prima partenza si può essere scegliere il solista che si può essere scegliere che si può essere scegliere che si può essere scegliere si è dita ma non si è portata la prova d'acqua è scegliere il risultato è scegliere e si è scegliere si è sentito che si può essere scegliere per gli esordienti portarsi alla via campionato regionale e provinciale 2023 a Renate Cepino a Renate Cepino a Renate Cepino in quanto ancora la possibilità di seguire la diretta YouTube L'Areo Scorte oggi da Facebook a Renate Cepino abbiamo la diretta della gara con il Ponte Radio ultima chiamata via esordienti alla partenza portarsi al via raggruppamento esordienti alla partenza portarsi al via e alla partenza portarsi al via e alla partenza portarsi al via ci facciamo venuti alla partenza prima gara il programma quest'oggi 15 e 30 sarà dal momento invece dell'allieme intanto massima attenzione al passaggio delle concorrenti lungo il percorso grande tifo da parte del pubblico per aiutare le nostre ragazze a pedalare sempre più forte portare a casa il miglior risultato possibile tante premiazioni quest'oggi oltre alle maglie vediamo anche il trofeo rosa una premiazione in più quest'oggi ultima chiamata esordienti portarsi alla prestazione dell'arrivo per la partenza i passaggi e l'arrivo proprio qui quindi tutto concentrato dobbiamo proseguire presto l'estate che lo dà a giù di cera un paio di minuti scarsi alle ore 14 mi raccomando ragazze massima prudenza soprattutto nei primi metri avete sentito la minuotecnica rispetto educazione mi raccomando avete tutta la gara per la del meglio di voi soprattutto nei primi metri attenzione attenzione e poi tutto il percorso di gara per voi 32 km circa la maglia provinciale e la maglia regionale partite, partite, applausi, pubblico, applausi via Giulia! sette davanti, sette davanti! ciao Grazie.